Al centro del presepe c'è sempre la natività, ma ogni artista la interpreta diversamente. C'è il bambinello immerso nell'acquario, c'è la grotta davanti a una discarica, c'è il presepe sardo. Nei venti anni della nostra attività ogni anno abbiamo cercato e abbiamo richiesto agli artisti che venivano e vengono a Città di Castello di portare sempre un'opera inedita. E' stata inaugurata la ventesima edizione della mostra presepiale di Città di Castello, una tradizione nata nel 1999 su iniziativa dell'ormai scomparso Gualtiero Angelino. Giochi d'acqua e di luce accompagnano i curiosi che rendono omaggio alla Sacra Famiglia. Movimenti meccanici animano la scena. Sono quasi 200 le opere raccolte nell'esposizione, dei presepi tradizionali a quelli fatti con la pasta. Ce n'è per tutti i gusti. I visitatori rimangono veramente colpiti. La soddisfazione più grande per noi come associazione è sentirci dire non avremmo mai pensato di vedere una cosa del genere. E di visitatori la mostra ne accoglie circa 10.000 ogni anno, quasi la metà provenienti da fuori regione.